promuovo questo tipo di iniziative ritengo siano importante per non perdere il filo che ci unisce con i clienti che è un filo molto importante io spero che si ritorni e che termini tutto questa situazione si possa ritornare alle fiere materiali ma credo anche e in futuro la comunicazione dovrà viaggia le più spesso anche in questi termini grazie grazie